Parliamo adesso invece di calcio a 5, i Nerazzurri dell'Acqua e Sapone hanno travolto il Meta Catania al Palarigopiano vincendo per 7 a 0 la partita che li porta ad avvicinarsi alla semifinale. Mercoledì prossimo a Catania si gioca la gara 2, Gui e Dudu dopo meno di due minuti hanno spianato la strada al 7 a 0 che ha chiuso la gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto del campionato. Un risultato netto che segna però soltanto il primo punto nella sfida che porta in semifinale. Mercoledì prossimo si giocherà la gara 2 in Sicilia, il Meta deve vincere per conquistare l'accesso all'eventuale gara 3 in caso di pareggio o altra vittoria, il Murillo e compagni la qualificazione sarebbe dei Nerazzurri.